Questa è la versione normale, poi guarderemo la versione appunto anni 90, sarà qualcosa di veramente magico e bellissimo allo stesso tempo, quindi cominciamo, vediamo un po' Michael trova l'erba di Jimmy nel frigo, ma ha sempre fatto un sacco schifo Amanda, non so per quello che vediamo, è sempre stata sulle balle Quanto mi stava sulle balle quest'uomo durante le missioni, quanto mi sta ancora sulle balle, namaste un gatto Quanto l'ho odiato il tipo della yoga lì, e anche il tennista di Obono Quanto è bello Trevor, ma io non mi ricordo per quel motivo avevano detto a Trevor che Brad non era morto Ok, qua appunto gli dice che la figlia è andata a fare quel programma là, storto, dove appunto fanno le trottie in televisione, praticamente, ok? Questa, raga, è la versione normale di quello che guarderemo oggi Normale, no, è la versione brutta, perché, raga, è la versione anni 90, ha un certo stile, ok? E qua, raga, è andata, diciamo, e fino a qui di questo filmato, principalmente, l'abbiamo visto tutti 30 volte, quindi Diciamo che quello che ci frega è questo, cioè, principalmente, però, per chi magari non l'ha visto, dice, porca misera, ci tengo Lo ammetto, è una pura verità Siamo pronti per vedere questa cosa magica, raga Non so se è una mode, perché io non l'ho mai visto così storto Anche cercando delle mode, non c'è così Penso che sia una roba proprio che ha fatto questo ragazzo Vi lascio il link, magari, in descrizione Detto ciò, cominciamo Va che bello che è C'è anche il lag Cioè, va che bello che è Ha la barba, manda, Dio buono Ma quanto è bello Ha due spato nel posto delle mani Alla barba, banca, manda, raga, dai Guarda come cammina storto Ma donna, sei mai passato sul temperino, Trevor Io voglio un GTA così Non voglio giocare un GTA così, mi prego Ma che bello che è Oddio, è indemoniato, Trevor Non ha le pupille, quasi Guarda che la faccia di Jimmy, com'è ben fatta Ragazzi, satana, Trevor, dai Ma sembra abbia la barba sotto agli occhi, Trevor Dio buono È arte Sembra tipo il boss malvagio di qualche gioco Tipo degli anni 90, appunto Non mi viene in mente il momento di santo Fa paura, sembra un varano Sì, io è Fabian Ah, good lord Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's, uh, she's, uh, she's trying out for TV She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show She loves it, you guys know that What's her talent? Dancing Oh Christ, she's a horrible dancer Michael She might disagree with you on that È bellissimo Jesus Christ, what now? Now? Where? Um, the maze bank arena Oh, little Tracy being humiliated Let's go, we go get her Guardate come muovono le gambe Yeah, we What are you going to stand here and argue While your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought Now let's go, come on Sembra satana, raga Sembra satana, Trevor Sembra satana Bellissimo, 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 raga No, 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 no